Oh pronto ciao compa Oh pronto ciao compa No compa guarda sono nero, sono nero, proprio unicolo, unicolo, unicolo Perché? Che è successo compa? Perché? Tu hai presente il nostro figlio Luca? Sì certo quello che fai in terza media E come no? Mi hanno chiamato dalla scuola e stavo fumando il bagno Vabbè compa che pure tu fumavi in terza media te lo sei scordato Sì lo so, però vent'anni a vedere E non ti sono fatto mai beccato Eh? Dei tempi Beccato 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 Invece Beccato 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 Grazie a tutti.